Se raccolgo del legno, il video finisce Ragazzi, volete giochi a prezzi scontatissimi? Beh, andate nella descrizione dei miei video e nella sezione social cliccate su questo link Andrete su Instant Gaming, un sito, raga, dove ci sono giochi veramente a prezzi stracciati Ma non solo, potete neanche trovare abbonamenti del PSN e card del PSN a prezzi scontati Quindi mi raccomando, ragazzi, fateci un salto Bello, ragazzi! Ok, quindi stiamo facendo la sfida, l'avete letta dal titolo, dall'intro Allora, il problema principale, ve lo dico subito qual è, diciamo, in cui potremmo fare stupidate È vicino a delle ceste, vicino a delle ceste e se ci troviamo nemici a corta distanza, cioè a bruciavelo In quel caso, infatti, ragazzi, ci troveremo il legno addosso Quindi, ripetiamo, siamo attenti a delle ceste e a nemici Poi ad eventuali distrazioni tipo picconare alberi Ma spero di non essere così stupido, spero, perché effettivamente lo sono Comunque, per esempio, questo lo posso esatto, tranquillamente picconare, easy Volevo comunque dirvi, ragazzi, che io sto facendo arena Allora, io sono nella Open League, quindi, infatti, non trovo gente molto forte, come potete vedere Non trovo queste cime Ho voluto, appunto, utilizzare la possibilità di fare arena Proprio con la gente di basso livello, fondamentalmente Perché, come potete vedere, ho 300 punti arena Proprio perché, ragazzi, questa sfida, in realtà, è molto difficile Bisogna stare troppo attenti Quindi, non mi volevo rendere le cose ancora più difficili Fightando, magari, in solo, con gente proprio del mio livello Quindi, Shala, ci faremo easy kill Ve lo premetto, eh E assolutamente non voglio dare l'impressione di uno che si vuol vantare Eliminando gente in arena a 800 punti Sto giocando, ragazzi, e stiamo esclusivamente pensando alla sfida Poi le kill, se arrivano, tanto meglio Altrimenti, Shala, non è il mio obiettivo principale Quello di portarcela a casa tante kill Allora, quello è un nemico, sì Sì, 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 quello era il nemico No? Non era il nemico Calmi Ok Non ho un fucile a pompa, però, eh C'ho un nemico in testa, ma io non ho un fucile a pompa Fucile a pompa Uh, bello Legno, ovviamente Non ne avevo dubbi Il legno è veramente Mi è droppato come se fosse pane Però poi, quando ti serve, non ce l'hai mai Legno? Certo, che legno Poteva mai non darti altro legno, eh sì Che ce frega, l'altro porto di camera stava a fare la sfida E che fai, non glielo dai, altro legno Adipo Dove stai? Fatte vedere Infatti, veramente capendo Non ho un'idea di dove sia Forse sta qua sotto, aspettate Alcuno si è travestito Allora, sta uno qua sotto Poi si è travestito pure un altro Ora Mi spiace per te, man Dai, hai nove di vita Lo sei anche tu, ok Perfetto Non sto neanche lutando la gente che sto eliminando Sinceramente Allora, facciamo una cosa Questo lutiamocelo Non fa niente Perché comunque ci servono Ragazzi madriali così vari Dove è il legno? Che sta lì Attenzione A post Ciao Mamma mia ragazzi Lutare così è veramente pericolosissimo Non ansia della madonna Mi servono anche però Un po' di munizioni, eh Di l'assalto soprattutto Ancora legno, basta Ma cos'è una presa in giro? Scusami, eh Tra l'altro Non posso neanche raccoglierlo Per sbaglio Perché me lo raccoglie Cioè, hai capito? Stavo spaccando L'albero Panico Questa cosa sta diventando Troppo complicata Aiuto Perfetto Ferro Altro ferro Ah, questo sta Midas E del legno Va bene Cioè, stava Midas Non è vero Non stava Midas L'ho eliminato stesso io Quell'emico Non so neanche io Che cosa elimino E chi elimino Ah, c'è un tizio Meno male Che non sono caduto sul ferro Meno male Che non sono caduto sul ferro Cioè, sul legno Vabbè, avete capito? No, no Stami lontano No, no Frami, devi stare lontano Vattene, vattene Allontanati Mamma mia Non posso eliminare i nemici Se mi stanno così vicino Altrimenti io cado sul legno Ma che te ne vai pure te? Ok Dammi tutto a posto Ciao Bella, frate Ti piace la minican? Ah, soddisfazioni Allora Oh Oh, oh, oh Tu, tu Tu, tu, da dove? Tu, da dove? Scusami Non ho capito Pare gente Non me ne accorgo neanche Ma sul tipo non lo so I topi si nascondono Ma non comprendo Aspettate Allora Il legno abbiamo visto Dove sta Quindi Passiamo di fianco Mi interessa giusto Questo mattone 100 Ciao A posto Sono felice ora Calmi tutti Ragioniamo un attimo Con intelligenza Apriamo prima Le cose più importanti Perfetto Non è uscito niente Ottimo Tu Cosa mi dai? Altro legno Devo fare un po' di slalom Qui Questi me li faccio un attimo Tanto danno ferro Cioè, guardate Stare con il legno Così vicino È veramente inquietante C'è gente sopra Ottima brutta notizia Aspettate un attimo Ragazzi Finito di colpire Assalto nel caricatore Ok Meno male ragazzi Che queste persone Non sono forti Questa è la mia unica fortuna C'è altro legno Ma quanto legno spona? Ma scusatemi Ma basta Allora Medikit Altre pozze Ok Sono full ragazzi Sono full di tutto Quello che potrei avere Mi gastava del legno qua Sto avendo il panico ragazzi Vedo legno ovunque Ok Un po' di slalom Dovrebbe bastare Questa pozza grande Me la prendo volentieri E qui invece Altra pozza grande Ok A posto Fate le nostre 7 kill Pulite Easy Soprattutto easy Ragazzi Continuo a dirlo Questa partita Non mi sta risultando Assolutamente difficile Ma ci mancherebbe Direi che Attenzione 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 Stai calmo Tu sei pericolosissimo Con quell'arma di distruzione atomica Che è la minigun Possiamo andare a cercare gente Ma non c'è l'elicottero Oppure In arena Non ci sono gli elicotteri Vabbè Andiamo alla riscossa Di due avventure Pronti Dovrei andare dall'altro lato Rip Ho sbagliato strada Questo è il riassunto Della mia vita Io che vado all'avventure Ma che sbaglio Strada Si rip C'è 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 proprio C'è proprio gente Che sta camperando Qua dentro Che 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 mira ho avuto La miradette Le dubbis Scusami fra Ora ti miro come si deve Stai firm Stai firm Stai firm Stai firm Firm Questo mi deve far scendere Nello scantinato Ti vuoi stare Sioncato Cioè fra Sta arrivando un altro tizio No io mo devo stare qua sotto Per colpa di sto tipo So sorry dude Aspettate un attimo Oh caldo Allora Mi servono 10 di mattoni Non farmi fare Ok ciao Tra l'altro ragazzi Mi servono anche colpi assalto Io sinceramente Non ho idea Di dove posso trovarli Fightano Minigun Quella che sento Credo sia una minigun Dai non fightatevi Aspettate Arrivo Mi faccio doppia kill Un attimo Palazzo FortuGamer is coming Please stop No moment Why you Ci sto Oh aspetta un attimo Frate Ci sto Ci sto Sta arrivare Sta arrivare Sta arrivare Il bo Erboro Oh Abbiamo il pro player qua Scusami eh Va 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 Questo mi chiude nella box Il problema non era Il fatto che lui si alzasse Perché se si alza Raga a me non interessa Almeno il problema principale È se lui Mi chiude Nella box con lui Quello comincia a diventare Un problemino Vabbè tu mi hai ridotto Un attimo Quindi giochiamola seriamente Raga Ok Bella per te Non eri male Questo ce l'ha a metterlo Però piace Gli edit sono belli Ma non utili Se fatti con Come li faceva lui Qua sotto Non riesco a vederlo da qui Almeno non ancora Mi spiace dude Allora Calmi tutti Perché questo Calmo Grazie Non ho il nemico alle spalle Serio Veramente non mi sta inseguendo Non ci credo manco Se lo vedo Che non mi sta inseguendo E infatti Col po' di barret Tra l'altra Ah questo me lo trovo Troppo addosso Porca miseria Ma basta Ma quanta gente c'è Sono circondato da cecchini E senza materiali Hanno tutti il barret Tutti Dal primo all'ultimo Paura di cadere Su del legno Non posso sfondare Questo muro Avrei voluto sfondare Questo muro Ma non mi conviene Perché Sta l'albero davanti Sbaglio di qualche millimetro Credo che mi zappa Del legno E vorrei Lo sapete ormai Evitare Allora La situazione non è Delle migliori Sono in low ground Con pochi materiali Vabbè Dirla tutta E qua Mi posso solo nascondere Non credo Mi teletrasporti A differenza di altre zone C'è un tizio proprio sopra A dirla tutta Stavo noi che sta sparando Col barret Sopra di continuo Non so se Sparo un altro colpo In modo che lo possiate sentire Comunque c'è Mi sta spammando Col barret Io in realtà Vorrei un attimo Prendermi L'high ground Ragazzi È una minigun Dove sono caduti Sui materiali Calmi La safe è stata a me Calmi tutti Un attimo Dov'è il legno Dov'è il legno Sta là Ok Grazie Sta arrivando gente Non ho preso il legno Ah ciao Cosa ha detto Vabbè Qua mi radellete le tabis E fortunatamente Questo è stato l'unico Della lobby Che si è fatto veramente Eliminare comunque Le tabis Ok Ragazzi Mancano 4 persone Ci possiamo fare 17 kill Che in realtà Sono un po' po' cucce Per la lobby Che abbiamo trovato Poi devo sparare Con l'M4 Non so perché Chè Che in realtà Che in realtà